Questo video riguarda i migliori tre fasce lombari. Il vincitore della qualità è il Mercase fascia lombare. Fascia lombare Mercase un sollievo immediato dalla tensione e dal dolore alla schiena. Come ernia del disco, mal di schiena, sciatica. La cintura lombare è realizzata in materiale traspirante e viene fornita con due cinghie sovrapposte in modo da poterne regolare la tenuta attorno al corpo punto viene fornito con cuscinetto lombare rimovibile. Sei piastre di supporto sostituibili per una facile regolazione della rigidità della cintura. Allevia la schiena durante il trasporto di carichi pesanti, è adatto per la protezione del lavoro e il supporto quotidiano, può essere utilizzato nel lavoro d'ufficio, nel lavoro quotidiano e nel trasporto di mergi. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il cintura lombare di sostegno. Fascia lombare di soetegno aiuta a prevenire le lesioni durante lo sport o l'attività quotidiana come sollevamento degli oggetti pesanti. Aiuterà alla diritta la zona lombare e sostieni il corretto allineamento dei muscoli. La cintura lombare è disegnata con 5 stecche metalliche, che permettono la stabilità sufficiente del sostegno nella zona schiena bassa, aiutando a sollievare al dolore lombare, sciatica, hernia al disco, ecc. Oltre al grande nastro a strappo della cintura, i due strap ausiliari regolabili hanno ulteriormente garantito la stabilità. Possibile regolare la tenuta liberamente, che consente il livello di sostegno preciso e comfort. Grazie ai materiali particolari e il disegno del pannelli a rete, che permettono la traspiranza e il comfort del prodotto, la cintura lombare è ideale per sia gli uomini che le donne. Il vincitore del premio è il Clever Yella Fascia. La fascia elastica lombare Clever Yella è ideale per donare sollievo dal dolore perché riduce la pressione su dischi, nervi e legamenti. Questo supporto lombare presenta sette supporti verticali che forniscono un sostegno lombare terapeutico. Il tutore per la schiena stabilizza la colonna vertebrale e riduce la pressione sulla colonna e sulla zona lombare. Il bustino, per uomo o donna, è dotato di cinghi a doppia regolazione per assicurare una compressione adatta alle tue necessità. Questo busto ortopedico lombare risulta particolarmente comodo. La cintura riduce il rischio di lesioni, fornisce stabilità, alta flessibilità ed è un valido supporto per tutti i tipi di attività. Realizzato in neoprene traspirante con doppia cucitura, questa fascia lombare posturale per donne e uomini è un acquisto che dura nel tempo e garantisce totale libertà di movimento. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.